Debora Iurato ciao bentornata sul music italia ciao ciao a tutti diciamo che l'occasione del del re leone è sicuramente importante anche per per ricordare quello che è stato il tuo ruolo a rai gulp si è vero bellissimo a parte che tutto stupendo e non vedo l'ora di vedere il film ma che ricordo hai del primo re leone beh un ricordo strano perché ogni volta che guardo il re leone piango piangevo quando avevo cinque anni sei anni e in realtà loro l'ho rivisto dopo tanti anni l'ho rivisto due anni fa e ho ripianto nello stesso modo come piangevo quando avevo cinque anni quindi stupendo ma secondo te qual è il messaggio più importante del re leone beh il coraggio e tu della tua carriera di coraggio comunque ne hai ne hai avuto nel tempo e anche questo questo nuovo singolo stammi bene con il soul system dimostra anche una certa versatilità dal punto di vista artistico sì sì beh è un mondo stupendo il mio io come ho detto cinque anni fa quando ho vinto amici ho detto sono fortunata perché faccio della mia passione più grande il mio lavoro e spero di continuarlo a fare per per tanti 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 anni e tanto che aspettiamo ormai questo questo nuovo progetto hai qualche hai qualche anticipazione da darci qualche notizia ufficiale beh sì diciamo che ci sto lavorando non sappiamo ancora bene la data di uscita però ci sto lavorando intanto sono felice di di essere uscita dopo tre anni con stammi bene insieme ai soul system che c'è stata una carica pazzesca un'energia assurda qual è il valore aggiunto dei soul system in realtà e intanto c'è comunque la stessa passione per la musica ovviamente però la loro energia il fatto che loro hanno quell'anima r&b soul è stata una bella unione secondo me perfetto grazie mille e buon estate grazie a voi buon estate a voi